Shock in Germania, pensate infatti che un uomo conosciuto come Semer ha letteralmente fatto fuori attraverso il soffocamento i figli di 8 e 6 anni di età, l'uomo diciamo che non voleva vedere proprio i suoi figli, i suoi amati figlioletti, amati si fa per dire di 6 a 8 anni con un nuovo compagno della ex moglie, dell'ex donna che amava l'uomo di 37 anni di età che lavora in qualità di ingegnere a Ratisbona proprio in Germania ha deciso di compiere un gesto aberrante estremo come questo, far fuori i figli, entrambi i figli giovanissimi, bambini, ragazzini proprio, 8 e 6 anni di età proprio perché non voleva che vedessero il nuovo compagno della ex moglie, della ex fidanzata, dell'ex compagna ne è nato veramente un momento brutto, infatti l'uomo Semer ha, conosciuto come tale, ha deciso di soffocare i figlioletti in maniera impetuosa, in maniera determinata, in maniera sicura in balba al fatto che i propri figli erano giovani, avevano tutta la vita davanti a loro e non è bello per un bambino morire, ovviamente come anche per un altro essere umano di qualsiasi tipo di età insomma, sta di fatto che l'uomo ha compiuto un gesto aberrante come questo vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, un saluto caro D'Ariandro, narratore italiano